Il vertice della scorsa settimana che tanti strasci che ha prodotto non è stato certamente un caso isolato, sono soprattutto i civici consiglieri che non fanno riferimento ai partiti ad attendere che il sindaco Lucio Greco dia risposte chiare. Le loro richieste sono state abbondantemente spiegate e vogliono anzitutto un'alleanza che segua una linea finalmente condivisa da tutti. Niente critici, nessuna doppia maggioranza e l'interesse ad andare avanti fino alla conclusione della sindacatura. Sono questi i punti fondamentali. Domenica a diversi consiglieri del fronte civico, da quelli di Una Buona Idea, agli esponenti di un'altra gela, fino all'impegno comune all'indipendente Rosario Trenito, seppur in maniera informale hanno avuto un nuovo confronto, in realtà aperto all'intera maggioranza. Le conclusioni sembrano essere piuttosto chiari e il sindaco Lucio Greco deve dare risposta alle questioni che hanno nuovamente portato al tavolo. Sono fermi nel ritenere che il mandato esplorativo che l'avvocato greco ha messo nelle mani del capogruppo di Liberamente Vincenzo Casciana debba essere esplicato in tempi rapidi. Una settimana circa per valutare se la maggioranza si possa ricompattare senza conclusioni certe, tutto rimane aperto, compresa l'estrema conseguenza politica dell'azzeramento, non solo dell'aggiunta. I civici sembrano ormai essere decisamente distanti dai critici casciane e Pierpaolo Grisanti, che comunque hanno sempre confermato di non aver assunto decisioni politiche diverse da quelle che li collocano in maggioranza. Non c'è solo il nodo politico liberamente, ma i temi sono tanti e riguardano gli equilibri dell'alleanza del sindaco, che si trova a fronteggiare situazioni sicuramente non semplici, considerando inoltre che sul tavolo rimane la richiesta del secondo assessorato per Forza Italia e la collocazione di Italia Viva, con le tante spinte che sono arrivati in questi ultimi giorni. Probabilmente i civici potrebbero rivolgersi nuovamente all'avvocato, forse nel corso di un nuovo incontro. Su questo aspetto però non ci sono ancora conferme.